È aperta al pubblico per le giornate del FAI Villa Gombo a Pisa nella tenuta di San Rossore, sorta come residenza del Presidente della Repubblica Italiana su un precedente edificio utilizzato dai sovrani di Casa Savoia. Oggi è gestita dalla Regione Toscana e ospita convegni ed eventi culturali all'interno del Parco Naturale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. La villa ha una pianta quadrangolare e è stata costruita inizialmente attorno a questo gigantesco pino che si trovava all'interno del giardino, anch'esso di forma quadrangolare interno alla villa, ma è stato tolto per ragioni di sicurezza. Ha delle finestre a nastro che illuminano in maniera naturale tutta la villa e questo progetto è stato fatto per creare un rapporto stretto tra la natura e l'architettura. Questo rapporto si riconosce appunto nei pilastri su cui questa villa è retta e sono a forma di raggera e ricordano i rami dei pini e all'interno di essi passano i cavi elettrici e gli scarichi. Anche i materiali utilizzati ricordano la natura, per esempio il travertino delle rampe di scale, poi ritroviamo la pietra negli edifici dedicati alle cucine e ai servizi e il legno che costituisce praticamente tutta la villa e si ritrova all'interno negli infissi e per il parquet. Anche i materiali utilizzati